forza forza ragazzi forza forza ragazzi forza forza ehi bisogna andare tranquilli forza via 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 forza eccoti qui via bravi un sorriso coraggio forza ragazzi venite forza lei quanti giri hanno fatto credo che sia il terzo sì forza ragazzi via 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 cazzo il primo è passato porca via carlo forza ciao max forza 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 vai giuseppe che sei ben messo via vai vai coraggio forza 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 ragazzi Forza Dai salto Dai dai Forza Antonio Ecco Lorenzo che arriva Vai Lorenzo Dai dai Forza Bacchisio Dai Luca Coraggio ragazzi Avanti avanti Forza bravissimi Forza Mario Via Gavino Coraggio Forza Forza Coraggio Via 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 Forza 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 Ragazzi Forza 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 Il 68 Pischetta, arriva il 75, Davide Massimiliano, 33 arrivo, De Riu Antonio Bacchisio e con 72 Peno. Attenzione, attenzione, attenzione. Un turno di chiesa e anche Franco Frau con il 79, arriva col 103 e da 65. Un passaggio di servizio agli amici del 118, il medico è salito su perché uno è caduto, lo sta controllando, ci auguriamo di non aver bisogno di essere preavvertito. E' arrivato anche Walter Ladu, Antonio Ladu, complimenti Antonio anche per te. Bravo Tonino, batti 5. Giovanni con il 73, con il 101 Sant'Ambarti e con il 107 Paeda Giovanni, Gavino. Camboni, Gavino, dai Gavino. L'ultimo gira. Hai capito, bravo. Adesso tutti in arrivo. Arrivo per Lorenzo De Sena. Grande Lorenzo. Bravo. Bravo. Ma chi è cap sul suo, non? Carvino Gavine. Allora tu no, questa cosa. Rovola Le F Built. Non ce l'hai qui?